Signori bentornati in un nuovo episodio di Ark Signori nell'ultimo episodio come ben sapete abbiamo raccolto Abbiamo catturato i due bastardi qui, i due vermi Tra l'altro ho scoperto il tasto come togliere la cosa Infatti adesso possiamo notare, questo è il culo Possiamo notare quanto schifo fanno, guarda che brutto Comunque abbiamo raccolto l'oro due e abbiamo... Perché ce l'ho con il raccolto? Abbiamo catturato l'oro due e anche il leone marsupiale In vostra assenza mi stavo dedicando un pochino a casa Come potete vedere ho fatto un lavorone incredibile E adesso vi spiego perché ho tante novità Vi chiedo di lasciare un like per questo video, almeno uno Buongiorgio Quindi vi faccio vedere Qua non so se vi ricordavate c'erano i pilastri e le siepi Invece adesso ho voluto diciamo pavimentare Che poi è sabbia Ho voluto pavimentare sempre grazie a una mod Possiamo mettere la sabbia Non ho ancora finito però è così che voglio fare tutta la zona Guardate come ho sistemato addirittura le viverne A destra abbiamo le mie A sinistra abbiamo quelle di molesta Guardate attentamente Abbiamo quelle di ghiaccio Quelle elettriche Quelle acide E quelle di fuoco Mamma mia da quant'è che non ti vedo dragon Ma buon tonno Era parcheggiato lì sopra Allora detto questo come vedete qua ancora di lavoro Me ne manca e soprattutto dobbiamo riempire fino a lì Magmasauri stanno qua bene Il gigantopiteco qua il mio scimmione raccoglie Raccoglie roba Guardate qua quanto è convinto Ogni tanto lui va in giro raccoglie fibra Perché questa mod ti fa costruire queste cose con le fibre E un'altra roba interessante Un'altra roba interessante Ah guardate qua Qua ho fatto pure una scaletta incredibile Per salire sopra E mi sono dato da fare Mi sono dato da fare Guardate qua che lavorone che ho fatto E poi i ragazzi non fanno mai un cazzo Non fanno Ci sono io qua Portare avanti la baracca Comunque uno di voi nei commenti Se non sbaglio mi ha detto che per trovare il verme della terra Potremmo in effetti usare il gufo Io adesso al gufo non gli ho fatto nemmeno la sella Non so se si riferiva al gufo Però il gufo ha la visione termica no Tramite la visione termica forse possiamo individuare addirittura sotto la sabbia Il verme del deserto Quindi è una cosa geniale Ma per prima cosa dobbiamo fare L'armatura del La sella del gufo delle nevi Ecco qua gufo delle nevi Allora ci vuole chiretina Ok dovremmo riuscire a farla Eccola qua Facciamo una bella sella per il gufo Perfetto Fatto la sella Andiamo direttamente a me Mamma mia comunque senza le interfacce Raga è bellissimo E tanto qua non ci sono animali ostili Mamma mia tutti quei nomignoli che volano Guarda lì Guardate che cazzo di villaggio Oh raga Adesso vi faccio vedere con una vista Mamma mia 18 punti abilità Cazzo gli aumenterei la velocità Puffi abbastanza lento Un po' di peso Giusto lo portiamo Mille Dopodichè la vita Che livello sei? Bello mio A vero L'interfaccia 226 Sta minchia se sei forte Che impero Guardatele vivere Due ore per sistemarle così Guardate che bello Casa mia che è spettacolare Raga Mamma mia Casa mia L'amo raga L'amo Guardate qua che quanta roba Il quesa No 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 Tanta roba Ma adesso abbiamo una missione Molto importante E la cosa che dovevo dirvi Ve la dico strada facendo Tanto io devo andare Verso il deserto No aspetta aspetta Che mi sono dimenticato le capsule Mi sono dimenticato tutto Vabbè mi rifornisco E partiamo Porto un po' di capsule Ma dovrei avere anche Una bottiglia d'acqua Presso Perfetto Aspetta che la riempio così Nel deserto Non devo cercarmi l'acqua In continuazione Allora vi stavo dicendo Ho aggiunto una mod Che in teoria Giunge animali nuovi E tutto questo È frutto di una mod Ovviamente non è una mod Sbroccata Gli animali non sono Super dragoni incredibili Parliamo di Leoni Tigri Balene Galline Pecore Roba che magari Animali esotici No animali normali Giraffe Zebbre In teoria dovrebbe essersi Tutto questo Non ne ho mai visto uno Ma adesso le esplorazioni Saranno più divertenti da fare Dato che c'è questa novità In più Tutto questo Io direi Mi sono dimenticato I repellenti Cazzo Ok dopo 1237 ore Sono arrivato Al deserto Come ben sapete Il gufo ha dei poteri Strabiglianti A parte che è fighissimo È uno dei miei volatili preferiti Dopodiché il gufo può andare in impicchiata Congelando in un raggio Tutte le persone nelle vicinanze Facendo così Inoltre il gufo può usare questa mossa qui Per rigenerarsi e congelare allo stesso tempo E in più E in più con C Abbiamo la visione notturna Come potete vedere Il gufo riesce a vedere roba Che noi umani non vediamo E adesso grazie a questo Piccolo trucchetto Vediamo se riusciamo a identificare Il verme della terra Che nello scorso episodio Non siamo riusciti a prendere Se non lo trovo manco ora Disinstallo arc E giochiamo a My Little Pony In questa luce verde Ho trovato ragà Tutte robe per creare un rifugio momentaneo Creerò la mia casetta nel deserto Perfetto ragazzuoli Ho trovato questo cartello Non l'ho messo io sicuramente Penso sia proprio Che si trovi qui C'è scritto Se guardi questo cartello Lascia un like Ma Non so se l'ho messo io comunque Provate a farlo Vedete se succede qualcosa Magari si attiva le stereghe della vita Ok Nei commenti mi avete detto Che dovrebbe trovarsi Tra 85 40 85 60 Non vedo nulla Stiamo ad andare verso L'85 40 Andiamo intanto 85 Niente ragazzuoli Mi sono rotto il cazzo Due ore che sono qui A girare A girovagare In questo deserto Ma io sto verme Non lo trovo ragà Posso dire che ho fatto Avanti e indietro Linea per linea E non ho trovato un cazzo Io una volta sto bestione qui L'avevo ucciso Comolesto Non vorrei Ma perché ho l'avvolto Ma cazzo ce l'ho l'avvolto Perdonami Ma è bagatissimo Un uomo Sbagati Non vorrei che Non lo so Che magari una volta fatto Non spawna più Non penso Però Così mi sta sembrando Andrei verso questa zona qui rocciosa Perché non l'ho esplorata benissimo Minchia Una falena la vorrei Il problema è che non ho animali fortissimi E il gufo non ha una sella ascendente Tutte le selle ascendente che vedete Comunque le vado a recuperare nella cesta Per chi se lo stesse chiedendo Si ho aumentato la probabilità del bottino raro di molto Quindi aprendo le ceste Quasi sicuro che trovate roba ascendente Livello 95 Questa potremmo anche prenderlo Non mi ricordo se il mio Aspetta mi pare che il mio è una femmina Questo è una femmina Eh va a facco Qua si stanno scannando Vediamo questa luce gialla Cosa ci Cosa riserverà per noi D'altro non ho incontrato nessuno di quegli animali aggiunti con le mod Ma vi posso assicurare che dovrebbero esserci Peccato il pro Oddio Porca puttana il golem C'è lo stesso golem dell'ultima volta? No? Perché è livello 20 e quello era il 15 C'è un morella toporello Oddio Cosa? Oh Minchia raga l'abbiamo parata Questo è un animale che viene da una mod Cosa cazzo sei? Tipo una specie di cammello elefante morella topo cammello Qualcosa del genere Si può sparare sul gufo? Merda no Non scappare buon uomo Non scappare non faccio niente Non ti fa Faffa culo Oddio Guardate che figo sto co- No ma io intanto penso mangiabacche Perché non so se sei un cammello Sei un elefante In entrambi i casi sei un erbivoro Guardate che cazzo di creatura è Leva questo bordello di interfaccia Wow ma è bellissimo Questa è una delle mod Poi ci sono altri animali Oddio dei mosco Si chiama Firestar Wolfhand Si cavalcano senza sella queste robe Attenzione Fatti talmente bene queste mod Che richiedono la sella Ma se io cerco Fire Eh non c'è la sua sella E invece si Ok Dovrebbe essere una di queste No Questa voglio vederlo Aspetta Vabbè aperta che non ho risorse Però arrivato a casa Voglio vedere sta roba Ti è fatto proprio benissimo sta mod Vedete non sono a mod a caso Mai preso Ho sempre usato il gigantopiteco Per raccogliere la paglia Per la fibra Perché a te non ti ho mai provato Poi un fungo raro Ma io dietro non ne ho Metto pure Ma tu mi sei scappato L'ultima volta Noi scapperai un'altra volta Lastardo Minchia ma adesso ho l'avvoltoio Vabbè ma l'avvoltoio Ho preso un avvoltoio di merda Dai Che cagato Allora te ti chiamerò Kurama Perché mi assomiglia La volpe a nove code di Naruto Solo che non ha nove code Te non riesco mai a domesticarti Perché mi muori sempre Quindi non so che dirti Che livello sei tu? Oh io devo prenderti In qualche modo Ok Ho domesticata Perfetto Che abbiamo trovato L'elefante cammello Elefante cammello Morella topo cammello Quindi ci sta Ok la falena Non so che cazzo mangiava Io nel dubbio Gli do sia le bacche Che la carne marcia Dato che Diciamo è un insetto Mamma mia me Ho peso Cazzo di fucile ascendente Che ho trovato Ma veramente Ho P Ok Ti diamo le bacche Per lui sia domestica Nel frattempo Questa pietra Quanta è quadrata Bellissimo Cazzo però Sono ancora Di giusto Ci sono rimasto così Di questa moda degli animali Proprio fatta da dio Ok eccolo qui Abbiamo pure il morella topo Mazza quanto sei veloce E allora 127 Questo qui ovviamente È un animale Molto Da deserto Infatti vedete È un contenitore D'acqua Portatelo dietro E vi raccoglie l'acqua La nostra Fanciulla Qui Vieni qui Sei un maschio Strano che trovo Dei maschi Perfetto Dobbiamo soltanto Andare a caccia Di altri esemplari Per fare la coppia Non mi ricordo Se il morella topo Era un maschio O una femmina Mannaggia Posso vederlo Dalla capsula Sì Il morella topo È un maschio Quindi dobbiamo trovare Due femmine Sia della falena Sia del morella topo Dio ma è un oiutiranno Ci fa un oiutiranno qui Ma è stranissimo Che c'è un oiutiranno Però prenderlo Oiutiranno Sti gran cazzi No 135 No questo è mio Il problema Sono tutti questi Carno Madonna Il gufo Non è fortissimo Posso provarci Ma levo Veramente poco Dai gufo Aspetta un attimo Aspetta un attimo Dai 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 Siamo dalla merda Oddio Mi stanno facendo proprio male Ok mi sa che Mi sa che è un cazzo Però il Il coso è caduto Lo aiuteranno Quindi mi rimangono solo loro Fatto fuori un altro Guarda dove è andato a cadere Lo aiuteranno Allora adesso Devo aspettare Che loro Eliminano Quel coso Perché se non eliminano Quello Il rischio Che a livello 150 Tra l'altro Come cazzo si fa Questa Minestra isolante Ma che livello è Il carno Il carno è al 95 E qua Dobbiamo stare Molto attenti E dai Non mi dire che ci muori Con un roba del genere E un carno E un oiutiranno Io mi auguro Che sopravviva E mi sa che sta avendo La meglio Lo aiuteranno La butto lì Viene qualcosa da dietro E mi attacca E mi spinge là sotto Per me è finita Comunque Non vorrei dire Dai che lo sta uccidendo Il combattimento più lungo Della storia Dai che lo stai uccidendo Tu sei bloccatissimo Mi dicono E quindi sei una preda Molto semplice Che bello Sta scappando Direi di sì Che se lo prendo Oddio l'ho preso E mi è caduto Proprio davanti Raga Sono un cazzo Di pro player Carne pregiata Abbiamo Tieni mangati questa Perfetto Lo iutiranno Non me l'aspettavo Sparte di una colorazione Proprio totalmente black Dai il gufetto Comunque di danno Fa cagare Ok nel frattempo Che lo iutiranno Sia domestica Do una controllatina Qua sopra Per vedere Una roba Molto interessante Quel robo lì Che non riesco a trovare Iutiranno ancora lì Il verme della terra Porca puttana Raga Non mi può pagare Che non riesco a prenderlo Allora Mi servirebbe Una femmina Del morella topo Quello è un maschio Cent Quanto Minchia Centoquaranta E io uccido il mio Mi prendo questo Vabbè Ci prendiamo questo Stronzo qui Quindi il nostro Il nostro morella topo Possiamo scannarlo Per bene Di un canguro Non ci credo Non ci credo La spedizione più bella Della mia vita Ma che livello eri? Minchia Ma era livello 20 No 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 Figlio di puttana Però livello 20 No Non ti voglio Buffo Quando vuoi Mi raccomando a terra Ok Mentre lui sia domestica Ritornerei Indietro Dal nostro Iutiranno Che dovrebbe essere In fondo A questo canyon Guardalo lì Che si è rialzato In tutta la sua potenza E lo Iutiranno Raga È un ottimo animale Trovato poi A questo livello Lui è ancora di più Vieni qua Mamma mia Spedizione è andata Di lusso Perfetto E abbiamo il maschio Del morella topo Livello più alto Quindi questo qui Possiamo Semplicemente Massacrarlo Oddio L'ho disinstallato Da questa parte Prima di salutarti Volevo dare un'altra occhiata Aspetta 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 Qua ci sono dei canguri Minchia A livello 100 Sarebbe la coppietta Della vita No Io un canguro Mi dispiace Ma lo voglio Femmina presa E adesso Prendiamo il maschio No vabbè raga Quando hai un fucile Ascendente Di questa Portata Sono poco C'è poco da fare Poco da fare Abbiamo preso La coppia di canguri Perfetto Aspettiamo Che questi due Si addomesticano Oddio Ti hanno abbandonato Qui a te Cucciolo No figlio di Madonna Ma vai a cagare Meglio Resta da solo Anzi ti dirò Resti da solo Eppure Incosciente Non l'ho preso Ma mi ho sprecato Un dardo No no Lo sto odiando Lo sto odiando Ma lo curo Facendo così Si è volato Che colore Strano Dimmi che sei una femmina Eh però Fai livello Livello schifo Allora Vediamo se i nostri Cangurozzi Si sono addestrati Ma cosa mangiano Sicuro che mangiano bacche Ste robe Oddio ma quanto sei tenero Però non ho capito Che cazzo si mangia Ma deve per forza Mangiare Mi auguro Ma Aspettiamo Senti raga I canguri Si stanno per svegliare Ma non è che mangiano carne Non lo so Che cazzo puoi mangiare La chettina Ti mangi Mi sa che Non si svegliano Toccio colpa Beh Vabbè Per i canguri Per adesso Ci penseremo In un altro momento Io direi Di tornare a casa Ci vediamo Tra 20.000 ore Eccoci qui Mamma mia Mamma mia Parcheggiamo qua Ah Dio mio Eccoci arrivati Da questa lunga 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 spedizione A dare il benvenuto Ai nuovi arrivati Tanto partirei Da te Oddio Partiamo dal fatto Che è tipo Un cammello È tipo il morellatopo Ma trasporta Mille di acqua Mentre il morellatopo Ne trasporta 750 Senza potenziamento Considerando che Questo qui È livello 209 È più forte Lui al 29 Vabbè è andato in Crionausia Ma poi Poi si sveglia Tranquillo Non è morto Poi avevamo preso Uno U Tiranno Avevamo anche preso Una falena Bene Ok Io ti devo provare Se tu ti chiami Firestar Olfend Qua Ci sono Delle Selle Così Il problema È che non so Dove si vanno a creare Se si creano Qui Non mi dire Che Perché questo qui È sempre il trigerato Questo qui è un art Però con la stessa sella Quindi non mi dire Che lui essendo Diciamo Un morellatopo Devo usare La sella Del morellatopo E va E infatti Consuma gli stessi materiali Fatemi vedere Se sta roba funziona Cosa mi manca Mi manca il legno Porca puttana Ok Abbiamo preso il legno E stiamo per craftare La sella Ok Si è craftata Adesso vediamo Se questa sella Possiamo Metterla A lui Esatto Oddio Ma che bello Pure il sound Tu attacchi Presumo Prendi bacca Però a differenza Di un morellatopo Sei velocissimo Se raccogli pure la fibra Ma guardate quanto è figo No ma Ma ragazzi È proprio bella Sta roba Cioè questo è un cazzo Di animale da deserto Ma è fighissimo Che dire ragazzoni Allora noi ci salutiamo Per questo episodio Spero che vi sia piaciuto Noi ci vediamo Nel prossimo episodio Dove andremo alla ricerca A sto punto Di nuove creature Alla prossima Ciao Bene mia Allora noi ci vediamo Grazie a tutti